L'agricoltura pugliese punta sempre di più sulla tecnologia, sull'organizzazione e sulla scienza per migliorare le colture e ottimizzare i raccolti, ma la vera sfida per l'innovazione del settore sono i giovani. Ne sono convinti gli assessori regionali Dario Stefano e Nicola Fratoianni, che alla Fiera delle Vante di Bari hanno illustrato le politiche e gli interventi previsti nell'ambito del piano di sviluppo rurale 2007-2013. Tra le novità, uno sportello sempre aperto per permettere ai giovani di avvicinarsi a un lavoro duro e rischioso, 1.700 le domande arrivate sinora, e rinnovare un settore dove la senilizzazione resta sempre molto alta. È uno degli asset strategici fondamentali quello di puntare ad un rinnovo generazionale assolutamente necessario, indispensabile per dare prospettiva ad un sistema agricolo che ha un indice di senilità troppo elevato, ma anche per dare prospettiva ad una nostra antica sapienza produttiva, ad un tratto identitario che ha fatto sempre della Puglia, una terra capace di produrre bene, in qualità, con standard di sicurezza alimentare elevata. Abbiamo la necessità di trasferire questa sapienza alle giovani generazioni perché altrimenti rischieremmo di disperdere un patrimonio troppo grande.